Uno scherzo decisamente ben orchestrato quello delle Iene nei confronti di Mario Balottelli, con la complicità di Enoch, il fratello dell'attaccante Oral Nizza. A balo era stato fatto credere che il fratello fosse coinvolto in un traffico di diamanti e per questo si era precipitato in suo soccorso. L'attaccante, in compagnia del fratello e del suo migliore amico, ha incontrato il finto trafficante di diamanti, che aveva proposto un affare. Alla fine, però, l'uomo era riuscito a dileguarsi con l'auto nuova di Super Mario, che ha iniziato un disperato inseguimento e alla fine stava per aggredire fisicamente l'attore. Solo a questo punto viene rivelato a Balotelli lo scherzo, e il calciatore reagisce così, avete veramente rischiato di brutto. Poi, rivolto al fratello Enoch, sai cosa ti succederà ora?